I nostri pensieri non sono i suoi pensieri, le nostre azioni non sono le sue azioni e bisogna in qualche modo rimettersi a questo. E allora molti oggi più che un tempo sostengono fondamentalmente il fatto che noi più che chiederci il perché dobbiamo chiederci il che cosa, cioè se qualche cosa ci accade sì ci dobbiamo chiedere perché forse mi sono comportato male. E allora la sofferenza e la malattia devono diventare un pungolo per indurre la riflessione. Oggi gli uomini siamo feriti e quando l'uomo è ferito alza lo sguardo finalmente verso l'altro e verso l'alto. Questo è un momento prezioso e quindi auguro soprattutto all'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute e anche dei migranti e quanti siete stati coinvolti e siete qui protagonisti di questo convegno, auguro che sia sempre di più questa la presenza dei cristiani in mezzo agli altri.